13 punti per lo sviluppo del paese, la CISL presenta l'agenda delle priorità per il prossimo governo. Sentiamo l'intervista di Laura Garofalo al segretario generale, Luigi Sbarra. Secondo l'agenda della CISL, quali sono le priorità per la ripartenza del paese? Il lavoro va rilanciato negli aspetti qualitativi, quantitativi e collegato a forti interventi sulle politiche attive, sulla formazione, sulla crescita delle competenze. Decreto aiutiter, è utile, anzi indispensabile accelerare, ma dove si trovano le risorse? Intanto sull'ulteriore tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche, delle grandi multinazionali, della logistica e dell'economia digitale. Bisogna reinvestire le entrate fiscali che stanno arrivando per effetto dell'impennata dell'inflazione e dovesse essere necessario provvedere anche ad uno scostamento di bilancio. Quando si sostengono imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati si fa debito buono. PNRR, perché secondo la CISL sarebbe un errore riscriverlo? Sbagliato aprire una fase con l'Europa finalizzata a ricontrattare o a rinegoziare. Piccole modifiche possono farsi nel quadro dei regolamenti che la Commissione europea ha indicato. L'obiettivo, l'imperativo oggi invece è quello di accelerare l'attuazione degli investimenti, spendere bene, spendere tutto e creare nuove e solide opportunità di lavoro, soprattutto per giovani e donne.